Era il 13 dicembre quando Guido Pozzolini Gobbi Rancilio con un peso da palestra colpì alla testa la madre Fiorenza di 73 anni nella loro abitazione di via Crocefisso in centro a Milano. Ora, 5 mesi dopo, il PM Ilaria Perinu ha chiesto il rinvio a giudizio per il 35enne con un lungo passato di problemi psichici malato di schizofrenia. Sottoposto ad una consulenza tecnico-psichiatrica disposta dalla procura, Guido Rancilio è risultato incapace di intendere e volere, circostanza che lo dovrebbe rendere così un soggetto non imputabile durante il processo a suo carico, dal quale quindi molto probabilmente non ne uscirà colpevole. Sarà a quel punto che in base al grado di pericolosità sociale il 35enne potrebbe essere trasferito in una REMS, le residenze di accoglienza per gli autori di reato con disturbi mentali e socialmente pericolosi. Quel 13 dicembre dell'anno scorso Guido Rancilio, dopo l'omicidio della madre, era stato trovato dai carabinieri nell'appartamento ancora a fianco al cadavere sotto effetto di psicofarmaci e in evidente stato di shock. Da lì poi era subito stato portato al policlinico di Milano, dove gli avevano trovato nel sangue una massiccia dose di ansiolitici antidepressivi. Per giorni era rimasto in uno stato confusionale, piantonato nel reparto di psichiatria dell'ospedale, non riuscendo a mettere a fuoco quello che era successo, confessando solo di aver assunto molte pastiglie perché si sentiva giù. Il movente, secondo il PM, come scritto nella richiesta di convalida del fermo, sarebbe stato da individuare con molta probabilità nei rapporti esistenti tra madre e figlio, rovinati dalla patologia sofferta dall'indagato. Dal 2014 in poi, il 35enne era stato infatti ricoverato tre volte in psichiatria.